beh eccoci di nuovo, vediamo un po' come va oggi c'è qua, questo isaac cuori, non mi servono per adesso uh, infestation non so cosa fa bombe insettino oh quante monetine 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 niente probleme sono i codicini prenderò un cuore completo di qua boom non riesco a prendere quello ok andiamo avanti l'ho fatto due bombe lì c'è già il boss qui qui niente neanche una chiave boh andiamo facciamo fuori il boss mostro eh saltone qui 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 solo mezzo cuore devo stare attento è morto è morto cuoricino mezzo cuoricino mezzo cuoricino attacca panni se ne scopri se ne scopri andrei l'ultimo pezzo di cuoricino clic e possiamo andarcene non c'è niente di nuovo secondo livello mi 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 uh teste 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 aiuto chiave ok uracri il problema è che mi manca pillole aumenta il rain non ho capito cos'è ah oh no accidenti bb bb rrrrrrrrrrrrrrrr Un piccioni con una fava, o meglio con una dina. Ok, non so cosa fa. Che cosa sei? Che cosa sei? Che minchia di minchia di minchia sei? Bruttone! Sono morto! Vabbè. 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 Vabbè.